ed eccoci qua ragazzi bentornati a tutti sul canale times gadget oggi siamo in compagnia del nostro galaxy s20 ultra perché oggi siamo arrivati alla tanta attesa e anche richiesta recensione anzi video dei migliori accessori gadget per questi nuovi top di gamma tutti gli accessori che vi farò vedere oggi sono disponibili e compatibili sia con le s20 ultra che con le s20 plus che chiaramente con le s20 normale prima di iniziare questo video vi invito sempre a lasciare un bel like qui sotto se vi piacciono questi tipi di recensioni e volete che ve ne porti degli altri e poi mi raccomando non scordatevi di iscrivervi qui sul canale di youtube accendete la campanina e cliccate sul pulsantino rosso per sapere sempre quando sono stati caricati nuovi video e se volete poi contattarmi di persona per chiedermi qualsiasi altra cosa informazione o domanda mi potete sempre contattare sul canale di instagram o anche sul canale di telegram in particolar modo su quello di instagram io vi lascio tutti i link sempre qui sotto in descrizione e detto questo ragazzi penso che possiamo partire subito con andare a vedere i primi due accessori da abbinare a questi nuovi galaxy s20 questa volta ve le faccio vedere entrambi insieme e sono gli unici due wearable gli unici due indossabili che ho voluto inserire in questa recensione e ancora una volta sono sempre questi due i miei preferiti dico ancora una volta perché chi di voi già l'ha vista aver visto il fitbit charge 3 abbinato come miglior gadget all'iphone in abbinata con l'apple watch invece da quest'altra parte l'active 2 l'avrà visto sicuramente fra i migliori gadget del note 10 plus ma non potevo di certo non portarlo e non e proporlo anche per l'S20 ultra perché risulta ancora oggi uno dei migliori smartwatch in commercio in linee generali risulta uno dei migliori secondo me forse il migliore insieme al galaxy watch per il mio modesto parere abbinato ad un terminale android non vi dico apple perché chiaramente dall'altra parte c'è l'apple watch che va sicuramente meglio ed è più integrato con il sistema operativo ios ma per quanto riguarda i dispositivi android beh allora vi consiglio vivamente di scegliere questi smartwatch samsung perché perché hanno un loro sistema operativo che è dal tizen os che va veramente molto bene è molto veloce è semplice è fluido è anche preciso abbiamo un ottimo touch abbiamo tantissime funzioni tantissime applicazioni altre poi le potete sempre scaricare dallo store abbiamo un design che è davvero molto elegante diciamo che mette a pari livello sia questo che il galaxy watch che si differenziano veramente per pochissime caratteristiche c'è la differenzazione del quadrante che su galaxy watch abbiamo 46 mm è un po più grande e chiaramente poi si differenziano per il design un galaxy watch da 46 o da 42 o 44 quello che è è molto più sportivo ha una corona fisica mentre questo qui c'è la digitale ma comunque a livello poi di funzioni abbiamo le medesime funzioni le medesime anche gestione delle notifiche ottima gestione delle notifiche specialmente se abbinata a un samsung in particolar modo con l'applicazione mail che utilizzate se utilizzate quella proprietaria di samsung potete perfino leggere per intero tutte le mail cosa che non si può fare con tutti gli smartwatch e rispondere come volete non solo con le risposte preimpostate ma anche a voce con gli smile con gli emoticons e poi con la tastiera la tastiera che la continuo a considerare una delle migliori e secondo me anche uno dei migliori compromessi per poter rispondere con uno smartwatch senza dover utilizzare la voce ecco perché mi piace davvero tanto poi oltretutto ha una serie di applicazioni utili come samsung pay se nel caso qualcuno di voi ha qualche carta abbinata abbiamo un design delle watch face davvero molto interessanti che si vanno a contraddistinguere un po' dal resto delle watch face che troviamo oggi sul mercato è dedicata allo sport abbiamo un'autonomia di ben quasi tre giorni diciamo che io con questi ultimi aggiornamenti dagli ultimi aggiornamenti con l'uison display riesco a fare due giorni pieni mettendolo a polso anche la notte perché lui grazie a queste funzioni che abbiamo già tutte integrate abbiamo anche la possibilità di farci monitorare il sonno e impostare la moderata notte solamente cliccando qui sopra uno dei pochi smartwatch che ha questa modalità che può essere impostata in maniera così semplice al contrario per esempio dell'apple watch dove dobbiamo andare a rimediare tramite le altre app di terze parti metterlo in modalità silenziosa non facile disturbare invece qui lui fa tutto in automatico basta che andiamo a cliccare lì sopra quindi molto molto buono sotto diversi aspetti e vi consiglio di associarlo ad un android e in particolare ad un samsung o questo o un galaxy watch anche perché avete sempre l'applicazione samsung wearable che è questa qui che è fatta sempre molto molto bene dalla quale potete gestire lo smartwatch potete gestire anche per esempio le cuffie se avete delle buzz sono integratissime fra di loro abbiamo tutta una serie di personalizzazioni avanzate la personalizzazione dello schermo dei suoni l'aggiunta di contenuti multimediali per esempio come brani oppure anche delle immagini direttamente dallo smartphone per inviarle direttamente allo smartwatch l'invio di richiesta SOS che lo potete anche settare avete bixby samsung pay come ho detto prima quindi poi avete tutta una serie di altre funzioni che potete attivare direttamente da qui dall'applicazione chiaramente poi dall'applicazione potete scaricare altre nuove applicazioni e altre nuove watch face ecco perché continuo a dire che sia uno dei più completi e poi dall'altra parte abbiamo anche un altro fitness band che secondo me anche qui è uno dei più completi perché rimane anche il più bello esteticamente lo so che ci sono tante altre fasce della concorrenza che hanno prezzi molto più contenuti ma per i design io continuo a preferire questo Fitbit anche per la sua qualità costruttiva devo dire i cinturini sono fatti molto molto bene mi piace perché a livello sportivo è importante che hanno i passanti, i dentini per fermare l'altra parte del cinturino sotto abbiamo una cassa che è tutta in plastica e alluminio ma con il sensore per il batterio cardiaco monitora molto bene il sonno con un classico swipe dal basso verso lato possiamo entrare in tutti i vari settaggi, tutti i vari monitoraggi che va a calcolare lui che va a monitorare durante il giorno come il battito cardiaco a riposo e non e lo monitora costantemente durante tutta la giornata abbiamo i chilometri fatti, le calorie, i piani, i passi abbiamo veramente un po' di tutto e poi chiaramente con un classico swipe invece verso destra anzi da destra verso sinistra arriviamo ed entriamo nelle poche applicazioni che abbiamo le altre si possono anche scaricare dallo store dall'applicazione Fitbit ma ce ne sono davvero poche la forza di questo fitness band non sono le applicazioni di terze parti ma sono quello che lui riesce a fare già di suo quindi senza ulteriori app vi sto facendo anche vedere un po' tutti gli altri sport che ci sono già inclusi in questo fitness band che è molto molto interessante poi si porta bene al polso ma soprattutto è un compagno perfetto per tutti gli smartwatch che hanno una batteria che dura una giornata due o tre giorni al massimo perché questi qui è chiaro non li possiamo portare sempre tutti i giorni al polso anche la notte perché hanno una durata limitata e quindi abbiamo anche un quadro meno completo perché questo poi funziona con Samsung Health come molti di voi sapranno però anche con Samsung Health con questi dispositivi a causa della loro autonomia limitata non abbiamo mai un quadro completo invece questo qui abbinato a questi smartwatch grazie all'applicazione anche qui Fitbit fatta molto bene possiamo sempre avere un quadro completo di sette giorni tutto quello che facciamo anche del sonno con i vari punteggi ed ecco perché lo ritengo un accessorio ideale non tanto da affiancare a uno smartphone Android ma da affiancare un po' a tutti i tipi di smartphone e soprattutto da affiancare se l'avete ad uno smartwatch che non ha una grande durata di batteria secondo me questo qui è uno dei compagni ideali lo so il prezzo si alza un pochino rispetto alla concorrenza che li vende a intorno ai 30 euro qui siamo sugli 80-90 euro a seconda poeta del modello ma datemi retta, credetemi l'applicazione di Fitbit è fatta davvero molto molto bene infatti qui poi potete aggiungere il peso, l'acqua, quello che mangiate potete aggiungere davvero di tutto e si va a integrare anche con applicazioni terze parti quindi davvero due ottimi wearball che vi consiglio di affiancare a questo S20 Ultra per quanto riguarda invece il comporto audio beh non potevo non consigliarvi che a breve arriverà anche la recensione completa le nuove Galaxy Buds Plus un modello davvero molto interessante non solo per un piccolo restyling a livello anche di colorazione nella parte esterna adesso possiamo trovare tre colorazioni bianca, rossa e nera tutte e tre in finitura lucida non è più la finitura opaca abbiamo un case che è il medesimo sembra leggermente più stretto leggermente più sottile sempre porta USB sul retro sempre due cariche all'interno e sempre invece le ottime cuffie a livello di design a livello anche di suono ma sono state anche migliorate notevolmente in chiamata infatti in questi giorni le sto continuando a provare un po' sotto tutti gli aspetti un po' in tutte le situazioni fuori al balcone anche quando riesco a uscire un po' per andare a fare la spesa o in quei rari casi che purtroppo adesso con questa cosa della quarantena comunque si può uscire di meno però le sto cercando di provare sempre e di tenerle sempre all'orecchio comunque risultano davvero delle ottime cuffie non solo per il loro design non solo per le loro tante funzioni abbiamo il touch qui fuori che funziona sempre meglio abbiamo un design che poi si tiene bene all'orecchio anche adatto per fare sport non si va a togliere non si va tanto a vedere non è molto invadente non abbiamo la stecchetta che fuoriesce abbiamo la calamita che le mantiene attaccate vedete al case in modo tale che se dovesse essere aperto il case per sbaglio comunque le cuffie non vanno mai a cadere non vanno mai a far uscire è molto facile vi state vedendo la connessione non appena andiamo ad aprire il case e andiamo a sollevare una cuffia automaticamente loro si vanno a connettere allo smartphone vedete anche qui la grafica con, vi do subito la percentuale di ogni singola cuffia destra, sinistra e il case e poi chiaramente è tutto gestibile dall'applicazione Samsung Wearable vedete ce l'abbiamo qui dove questa volta ci fa vedere con queste nuove Buds Plus al contrario del modello precedente anche la ricarica che c'è rimanente del case di ogni chiuffia qui possiamo attivare o disattivare il suono ambientale che devo dire è migliorato è meno robotico rispetto a quello di prima è meno macchinoso risulta un pochino più pulito comunque come suono abbiamo sempre comunque la possibilità dell'equalizzatore di andare a equalizzare e a personalizzare il nostro suono la gestione delle notifiche abbiamo la personalizzazione del touchpad poi questo vi farò vedere tutto nella recensione completa abbiamo anche in generale il poter ripristinare gli auricolari e poi abbiamo il trova auricolari personali in modo tale che se nel caso li perdiamo li possiamo sempre andare a ritrovare e comunque abbiamo le varie personalizzazioni e anche le funzioni che andavamo a ritrovare in parte anche sul vecchio modello anche sulle vecchie Buds ma queste nuove si vanno a contraddistinguere per avere una migliore qualità del suono sia a livello multimediale non c'è ritardo c'è un facile switch tra per esempio smartphone, tablet e laptop è molto facile passare da una all'altra anche se non avete per esempio un tablet Samsung o non avete un laptop Samsung e poi non abbiamo ritardo nei film nemmeno quando veniamo a vedere qualche video con il computer ed ecco perché ve le consiglio oltretutto poi oltretutto a tutte queste c'è anche la possibilità di farle ricaricare direttamente con il telefono perché loro sono dotate di ricarica wireless e il telefono essendo dotato come tutti gli ultimi top di gamma di ricarica wireless inversa quando siete a casa quando siete in viaggio dove volete quando le volete far caricare basta che attivate la ricarica inversa sul telefono le appoggiate il gioco è fatto e si iniziano a caricare una funzione una caratteristica molto molto buona molto interessante che si va sempre meglio a integrare con l'ecosistema Samsung che fa comodo soprattutto a chi viaggia ma anche quando siete a studio di quando siete a casa ma soprattutto a chi viaggia perché utilizzando un solo cavo facendo caricare il telefono e attivando la ricarica wireless potete far caricare entrambi i dispositivi sia che siano le Galaxy Buds sia anche che sia il Galaxy Active 2 un'altra cosa di cui mi ero scordato e per cui ve lo consiglio abbinato a questi smartwatch perché poggiandolo anche lui qui sopra si può andare tranquillamente a ricaricare quindi non vi serve portarvi dire una powerbank oppure una basetta di ricarica apposita comunque queste Buds le potete trovare qui sotto sempre il link in descrizione ad Amazon ad un costo come quelle precedenti di 149€ quindi il medesimo prezzo del vecchio modello al lancio poi sicuramente nelle prossime settimane o facendo passare anche un mesetto un mesetto e mezzo si andranno ad abbassare intorno ai 120-130€ comunque il prezzo si va sempre un po' a limare e a livellare continuando invece a parlare di accessori piccoli da affiancare al nostro Galaxy S20 Ultra eccola qui una penna che non vi facevo vedere da tanto e parliamo della SunDisk Connect una penna molto molto interessante che ho iniziato a riutilizzare e sto riutilizzando in questo periodo perché ho la necessità di spostare file da una parte a un'altra dallo smartphone al tablet o dal tablet al computer e viceversa ma senza però farli passare direttamente da un dispositivo a un altro e delle volte ho anche necessità di salvare dei file esterni da portare sempre con me ma senza però salvarli all'interno della memoria del telefono o all'interno del tablet o del computer per poterli avere sempre a portata di mano un po' su qualsiasi dispositivo e quindi ho iniziato a utilizzare questa penna ne ho due di penne sono davvero utilissime adesso vi spiego un po' velocemente come sono fatte e cosa fanno allora in pratica è una penna prima di tutto usb a semplice ancora non abbiamo mi sembra il modello usb c però all'interno come vedete qui dal simbolino abbiamo un router wifi che si può accendere da questa parte una volta accesa voi non dovete far altro che attaccarvi alla rete wifi che crea la penna che si chiama SunDisk Connect ve la faccio vedere che è questa qui una volta attaccati non dovete far altro che andare a scaricare l'applicazione SunDisk Connect in pratica una volta connessi voi avete a disposizione la possibilità di gestire tutte le cartelle tutti i file all'interno della penna senza però doverla collegare necessariamente alla porta usb c o al computer o da qualche altra parte basta che l'accendete che l'attivate e andate a connettervi alla rete i file si passano velocemente sia dalla penna allo smartphone che viceversa perché è tutto tramite wifi quindi è veloce quando cliccate qui sul menu avete a disposizione sempre qui sotto la batteria rimanente della penna perché chiaramente la penna deve essere ricaricata ma basta per ricaricarla attaccarla a un dispositivo a un laptop e si ricarica tranquillamente e poi qui avete lo spazio residuo del dispositivo Android e lo spazio residuo invece della penna qui è chiaro che adesso è vuota perché avevo cancellato la maggior parte dei file per farvi un po' vedere un po' come funzionava ma voi potete salvare qualsiasi cosa dalle foto ai video vengono aperte in maniera anche molto veloce li potete condividere direttamente dalla penna senza doverli scaricare sul telefono e poi riandarli a inviare quindi è molto molto utile poi qui c'è la possibilità di andare a ordinare a selezionare la griglia a creare cartelle ad aggiungere i file direttamente dal telefono potete selezionare quelli che volete e li andate a salvare all'interno di una cartella che create quindi c'è una massima libertà di gestione e una massima personalizzazione delle cartelle all'interno e come anche a livello di file manager molto molto buono infatti ecco perché ve la consiglio di associarla e di utilizzarla insieme a questi smartphone specialmente a questi S20 Ultra che girano i video molto pesanti se le volete salvare a parte i video in 8K o in 4K non vi va di lasciarli sulla memoria del telefono perché già comunque la avete un po' piena e vi serve altro spazio allora vi consiglio di utilizzare queste penne senza portarvi con voi le classiche penne da attaccare a USB-C qui sotto con questa qui per esempio spostate un file seppur ci mette tanto spegnete il telefono la penna la mettete in tasca non spegnete la wifi e lui comunque continuerà a passare il file che avete copiato ecco perché ve la consiglio poi chiaramente su Amazon le potete trovare in tante diverse varianti a livello di storage in due diverse colorazioni ce l'abbiamo sia così che bianca a livello di storage quindi come memoria interna parte da 16 GB fino ad arrivare a 256 o se non vado errato c'è anche un modello nuovo da 512 io comunque vi lascio tutti i link sempre qui sotto in descrizione e poi per qualsiasi altro dettaglio dubbio informazione lo sapete potete contattarmi sia qui sotto che tramite il canale di Instagram quinto altro piccolo gadget da affiancare a questi Galaxy S20 Ultra è questo qui questo qui è un semplice cavo USB-C HDMI perché ve lo consiglio di utilizzarlo perché in pratica vi potrebbe essere molto molto utile molto comodo per collegare il dispositivo lo smartphone con Samsung DeX quindi a un display esterno a parte il fatto che lo potete fare via wifi ma se avete una wifi una connessione un pochino lenta e vedete qualche ritardo qualche delay allora vi consiglio di utilizzare un cavo del genere lo potete utilizzare anche per far uscire in video direttamente e attaccarlo a televisore se nel caso non avete un cavo USB-C HDMI diretto avete solo un cavo HDMI HDMI allora potete utilizzare un connettore e un adattatore del genere è molto piccolo molto portatile soprattutto molto buono a livello di qualità perché è tutto in alluminio da questa parte HDMI qua connettore con rinforzo in nylon su tutto lungo il cavo è piccolo quindi lo potete portare ovunque anche all'interno delle bag smart e secondo me è un oggetto che vi fa molto molto comodo specialmente l'ho utilizzato in questi giorni in questo periodo anche che può sembrare una cosa stupida ma se non avete una televisione smart da poter collegare direttamente in maniera wireless il telefono con la tv se riprendete qualche video in 8K e lo volete vedere anche in 4K sulla vostra televisione il modo più semplice senza tanti giri di connessioni o andare a prendere altri tipi di prodotti domotici è collegare un cavo HDMI qua con questo attaccare al telefono e il gioco è fatto e avete il display lo schermo direttamente sul televisore o comunque avete connesso lo smartphone con la vostra tv ecco perché ve lo consiglio anche perché non solo è piccolo ma costa anche poco costa all'incirca 9,99 euro io comunque anche di questo vi lascio il link qui sotto in descrizione e vi consiglio da acquistarlo perché ormai sono diversi mesi che lo utilizzo non solo con l'S20 Ultra ma anche con lo stick fire di Amazon e con tanti altri dispositivi ed è un accessorio comodo proprio sempre da tenere in casa e sempre da tenere a portata di mano alla stessa posizione invece andiamo a trovare e non potevano non esserci in una recensione dei migliori gadget su questo canale per l'S20 Ultra tre cover ve le faccio vedere in maniera abbastanza veloce perché già le ho recensite tutte e tre e vi spiego anche perché questa volta non ho inserito due cover o una ma non salite ben tre perché allora la prima è la di Brand Grip questa qui vi ho fatto vedere nell'ultima recensione potete trovare comunque tutte le recensioni di tutti questi prodotti della maggior parte a parte delle Galaxy Buds Plus che le devo ancora fare comunque le potete trovare sul canale ve le lascio qui sotto in descrizione e anche qui sopra ogni tanto da qualche parte comunque vi ho portato questa qui che è la di Brand Grip perché perché è una delle cover non solo molto belle da tenere in mano hanno un drop test approvato sono molto ben rifinite internamente ed esternamente ma sono fra le poche che offrono una personalizzazione nella parte esterna senza dover andare a cambiare la cover dove andare a comprare un'altra perché vi siete stufati del nero sul retro o perché volete cambiare proprio la tonalità e la parte posteriore della back cover allora potete tranquillamente in questo caso utilizzare le skin ed è una delle poche che permette se non l'unica che permette di avere questo tipo di personalizzazione ecco perché ve l'ho voluta inserire mi sto trovando davvero molto bene con questa cover seppur come ho detto nella recensione completa non offre una grande protezione per il comparto fotografico perché vedete non sporge tanto la cover rispetto alle fotocamere però il fatto di avere queste di brand skin sul retro da poter staccare e riattaccare ordinarne altre in non so in pelle in pelle di drago in nero opaco bianco opaco ne potete ordinare veramente tante di tanti differenti modelli e colorazioni è un qualcosa che tante altre cover non hanno ecco perché mi sono sentito di consigliarvi questo modello per questi Galaxy S20 Ultra in particolar modo per l'Ultra che quest'anno purtroppo ha solo due colorazioni come molti di voi sapranno il nero e il grigio e delle volte viene un po' la tentazione di cambiare colore perché ogni tanto dopo un po' di tempo ci si stufa di queste solite colorazioni degli smartphone seconda cover invece che vi ho portato è un'altra cover molto interessante che non si va a contraddistinguere per la personalizzazione o per le colorazioni ma si va a contraddistinguere per essere molto bella protettiva con microban quindi con la tecnologia antimicrobi di antibatteri che non ci si vanno a depositare sulla parte esterna e parliamo della Spec Presidio Pro un modello interessantissimo che mi piace tanto che è cuscine chitaria all'interno ve l'ho voluta inserire perché si parla di una delle cover di una delle poche cover che ha un design minimale elegante tutto semplicemente nero con un touch and fill davvero bellissimo leggermente gommato piacevolissimo al tatto che non va neanche a scivolare o a sfuggire non trattiene tanto le impronte e soprattutto come dicevo prima è una di quelle poche cover che offre un design di questo genere quindi tutto totalmente nero semplice elegante con solo il brand dell'azienda qui sopra senza tanti chirigori disegni o comunque con cover colorate o con particolari scritti o con particolari brand ed è l'unica che ha una tale resistenza quindi con questo design con questa linea ma un drop test approvato certificazione meditare fino a 4 metri di altezza o 3 metri e mezzo se non vado errato grazie a questi suoi cuscini etitaria ecco perché ve la consiglio quindi se non volete un qualcosa di personalizzato e volete un qualcosa di un po' più particolare e anche sinceramente più bello anche come touch and feel sul retro allora vi consiglio questa Presidio Spec Pro che ha un costo di pari quasi alla di brand di 29 euro 26 euro a seconda poi di dove la comprate comunque vi lascio tutti i link al sito di Amazon a parte della di brand che vi lascio il sito allo store ufficiale poi come terza cover invece questa volta vi ho portato per questi S20 Ultra ed S20 Plus e S20 normale anche quella ufficiale seppur a molti può sembrare strano ma vi consiglio quella ufficiale in silicone per quale motivo? perché molti di voi mi hanno fatto notare che non gli vanno tanto a genio le cover grandi spesse sì ok saranno protettive ma a molti non interessa tanto la protezione del telefono quando interessa una leggera protezione e soprattutto avere un miglior grip per un telefono di così grandi dimensioni di così generose dimensioni con in particolar modo la S20 Ultra e poi molti di voi mi hanno richiesto delle cover colorate ecco il motivo per cui ad oggi per questi S20 vi consiglio anche una cover di questo genere che è sottile minimale è elegante la possiamo trovare anche in tanti diverse colorazioni io qui ho sempre così celeste ce l'ho nera la vorrei prendere anche bianca ma c'è gialla rossa grigia blu blu scuro blu oceano davvero molto molto belle e soprattutto minimali ok non proteggono tanto proteggeranno dalle cadute del telefono da circa una decina di centimetri non vi aspettate granché proteggono però il telefono da graffi lo proteggono anche nella parte anteriore dato che abbiamo questo piccolo bordo che va a non far toccare il display nella parte anteriore e quindi ecco perché ve le consiglio perché comunque poi sono belle da tenere in mano sono un po' una calamita ve lo sporco ma non tanto come le cover le altre cover in silicone che ho provato precedentemente per altri dispositivi e di altre aziende e di altre marche queste qui trattengono un pochino meno la polvere infatti le sto continuando a utilizzare e mi trovo davvero molto bene seppur chiaramente non possono essere paragonate a livello di protezione alla spec o alla di brand però comunque si tratta di cover colorate originali e molto molto simpatiche anche di queste vi lascio i link qui sotto in descrizione il prezzo è di 16 euro tra i 16 e 18 euro quindi molto molto contenuto continuando adesso a parlare di cover ma passando anche parlando un po' del lato batteria autonomia eccola qui non poteva mancare anche per questi S20 Ultra un battery cover quindi un battery case una cover con batteria integrata e qui vi voglio consigliare questo modello che sto provando da diversi giorni se volete vi porterò anche una recensione dedicata completa per spiegarvi meglio un po' tutte le caratteristiche però si tratta di un case interessante con ben 6000 mAh all'interno con chip intelligente che fa bypassare la corrente prima al telefono e poi si va a caricare la batteria interna alla cover abbiamo nella parte esterna che è tutta leggermente gommata quindi molto molto bella a tatto aiuta anche la presa abbiamo un bordo in TPU abbastanza rigido vedete qui abbiamo anche una specie di gomminitaria questi cerchiettini qui queste lineette che vanno ulteriormente a proteggere il telefono da urti e da cadute internamente tutto rivestito in panno nella parte esterna come vi dicevo abbiamo tutto l'investimento leggermente gommato perché questa qui è la parte in plastica mentre questa qui è la parte più morbida in TPU per andare a inserire il telefono perché ve lo faccio vedere il telefono si inserisce semplicemente in questo modo abbiamo nella parte anteriore anche un bordo leggermente più irrazzato che non fa toccare sia nella parte inferiore che superiore che non fa toccare il display quindi buona anche come protezione protetta la fotocamera anche perché guardate qui che tipo di bordo e che rialzo che c'è per tutti coloro che se lo domandassero perché già ve l'hanno richiesto in più di qualcuno per l'S10 Plus se non vado errato questa batteria questo tipo di altezza qui non dà assolutamente fastidio alla camera grandangolare di questo telefono neanche lo zoom ho portato un po' tutto e potete andare tranquilli funziona alla grande e non dà alcun tipo di problema qui dietro comunque come vi stavo facendo vedere abbiamo oltre che il case in leggermente gommato abbiamo anche 4 led che se andiamo a spingere il pulsantino si illuminano e ci indicano la batteria rimanente mentre se poi le andiamo a tenere premuti si va ad attivare la ricarica purtroppo la ricarica non è wireless e non è rapida l'avete visto che non è wireless perché avete l'USB-C qua qui sotto purtroppo non è rapida e in alcuni modelli è rapida in altri no non ho capito ancora il motivo poi se prendo qualche modello se mi capita di trovare su Amazon con ricarica rapida ve lo lascio sempre qui sotto in descrizione qui sotto avete i classici fori e la classica porta USB-C alcuni di voi mi hanno chiesto nel precedente modello per il Note 10 Plus e vi rispondo già ora se a qualcuno gli capita di porsi questa domanda se funzionano le cuffie con il cavo quello originale di Samsung con la porta USB-C si funzionano tranquillamente anche quando avete la cover perché in pratica questa cover va diciamo a sostituire la porta USB-C del telefono non funziona solamente con gli SSD esterni perché questa qui non essendo OTG non riesce a riprendere quella funzione però per il resto funziona egregiamente qui da questa parte abbiamo i pulsanti fisici rivestiti in gomma molto molto belli fatti molto bene molto morbidi e quindi che dire ragazzi devo dire che è una gran bella cover 6.000 mAh di batteria che riesce a assicurare ad un S20 Ultra una ricarica e mezzo quasi due perché qui dentro abbiamo 4.000 mAh quindi sono davvero tanti e chiaramente non vi potete aspettare che questa qui raddoppi come batteria per poter arrivare a due cariche perché altrimenti sarebbe veramente ancora di più un mattoncino seppur adesso si sente il peso si sente la grandezza però comunque si tiene bene in mano perché questo spessore fa sì anche che la si vada ad abbracciare la cover in maniera un pochino meglio un po' più ergonomica devo dire non dà assolutamente fastidio però per 6.000 mAh come vi dicevo abbiamo un costo di soli 25-29 euro a seconda della promozione e a seconda se la prendete per l'S20 Ultra o per l'S20 Plus o per l'S20 perché mi sembra che per l'S20 essendo un po' più piccola si abbassa leggermente di prezzo quindi non male come rapporto qualità-prezzo e come battery case da portare sempre con voi in viaggio anche di questa vi lascio i link qui sotto in descrizione ad Amazon arrivando adesso invece al penultimo accessorio da affiancare a questi S20 Ultra beh non poteva mancare dopo aver visto la battery cover una powerbank invece esterna portatile portatile da virgolette perché questa qui è un modello abbastanza generoso come dimensioni guardate qui ha quasi le stesse dimensioni dell'S20 Ultra ma mi sento di promuoverla e soprattutto di consigliarvela ve l'ho fatta anche vedere fra i migliori accessori per i migliori powerbank per questo inizio 2020 e parliamo della powerbank da 10.000 mAh della U-Lox perché davvero ragazzi è una powerbank performante completa sotto tutti gli aspetti abbiamo tre porte qui davanti micro USB USB-C e USB-A USB-A è solo out mentre la C e la micro USB è in e out ciò vuol dire che potete utilizzare tranquillamente il cavo USB-C se ce l'avete perché state anche voi abolendo tutti i micro USB sia per far caricare il telefono sia per far caricare la batteria e poi qui avete il pulsantino che ci indica da quest'altra parte se accendono i led rimanenti della batteria all'interno quanta carica è rimasta e poi la cosa interessantissima di questo powerbank è che ha la ricarica wireless integrata ma ce l'ha con un plus cioè con queste ventose dove noi possiamo andare ad attaccare il telefono in questa maniera il telefono non si va a staccare non si va a spostare e al tempo stesso però lo ricarica un'invenzione un'idea davvero originale che continuo tanto ad apprezzare forse in questo S20 Ultra delle volte potrebbe dare fastidio la camera ma se nel caso però portate per esempio una semplice anche cover in silicone voi la potete attaccare tranquillamente perché funziona anche su queste e funziona chiaramente la ricarica wireless comunque anche senza cover non è che ci sia grandi problemi e quindi ecco perché vi consiglio questo tipo di powerbank questa volta per questi Galaxy S20 Ultra perché comunque seppure abbiamo delle dimensioni generose ma è molto bella esteticamente tutto un rivestimento gommato è molto solita a livello costruttivo davvero di ottima qualità e poi 10.000 mAh sono davvero tanti riuscite a fare più di due cariche e mezzo quindi due cariche complete più un 30-40% se non fate errato se non faccio i calcoli male e poi abbiamo queste ventose che la contraddistinguono da tutto il resto delle altre powerbank che solitamente non sappiamo mai come mettere il telefono dove poggiarle come attaccare il cavo invece qui lo potete anche attaccare così con la ricarica wireless e il gioco è fatto e non avete problemi l'unione oneo che ho trovato di questa powerbank è che purtroppo in alcuni casi non riesce a caricare i dispositivi per esempio gli accessori piccoli come le Galaxy Buds Plus oppure l'Activ 2 della Samsung ve lo vado ad accendere perché con questo guzzantino accendete vi ho fatto vedere prima la ricarica purtroppo non riesce a caricare però se le volete affiancare in particolar modo all'S20 Ultra senza dover tenere presenti i vari accessori poi di contorno allora ve lo posso consigliare perché è davvero un modello molto molto buono molto performante unito a questa batteria per finire tutti questi accessori di questo S20 vi voglio far vedere anche il cavo che utilizzo perché con tutti questi accessori qualche cavo è chiaro che deve esserci presente fra gli accessori fra i gadget da associare a questi S20 Ultra e questa volta vi voglio far vedere e vi voglio consigliare questo fantastico cavo della Spigen che sembra semplicissimo ma invece è davvero un ottimo cavo abbiamo due porte USB-C USB-C su entrambi i lati questo perché perché ultimamente sto cercando di utilizzare sempre di meno le micro USB dato che tutti portano USB-C ecco perché vi ho portato anche una powerbank che si carica con la USB-C in e out la maggior parte poi dei dispositivi oggi si caricano tutti con USB-C e quindi ecco perché mi sono sentito di consigliarvi questo cavo è un cavo davvero molto molto buono solido costa poco abbiamo tutto rinforzo tutto lungo il cavo e abbiamo soprattutto cosa che è importante un rinforzo qui alla base del connettore che è la base che è la parte più soggetta a rompersi quando lo andiamo a utilizzare tanto che si va a usurare quando andiamo a piegare questa qui se non è così ben protetta e irrobustita la maggior parte delle volte si va a sfilacciare e si va ad aprire qui il cavo invece devo dire che quella Spigen ha fatto davvero un ottimo lavoro è un cavo che potete trovare in tre diverse misure questa qui è da 1,80 m la possiamo trovare anche da 90 cm oppure anche fino a 3 m e la possiamo trovare in tre diverse colorazioni ce l'abbiamo sia così nera sia bianca che rossa io ho ordinato anche quello bianco però ho avuto un piccolo problema in pratica questa tacchettina qui sopra che vedete era leggermente più alta e non riusciva a fare entrare a fare arrivare fino in fondo questa porta USB-C sul Pixel 4 XL è la prima volta che mi è capitato sicuramente sarà stato un errore di fabbrica non mi è mai successa una cosa del genere con questo comunque lo ricarico senza problemi però tanto per dirvelo se vi dovesse capitare un prodotto del genere o un problema di questo tipo rimandate indietro e ne ordinate in alto perché il cavo funziona benissimo con tutti i tipi di smartphone anche di questo ragazzi a 9,99 vi lascio il link qui sotto ad Amazon e detto questo ragazzi si include qui anche questa recensione di questi migliori accessori per questi nuovi Galaxy S20 S20 Plus ed S20 Ultra per qualsiasi altra dubbio domanda informazione lo sapete sono qui a vostra disposizione mi potete contattare con i commenti qui sotto su YouTube oppure tramite il canale di Instagram io ve lo lascio sempre qui sotto in descrizione il link a tutti gli altri social network che se nel caso mi volete contattare di persona mi volete mandare qualche messaggio in privato perché avete qualche dubbio in particolare e poi vi invito sempre a iscrivervi anche sul canale di Instagram per essere sempre aggiornati su tutti i prodotti che mi arrivano perché qui molti prodotti non riesco subito a portarli in recensione mentre su Instagram arrivano subito le foto o i video non appena mi arriva il prodotto e poi invito a iscrivervi anche al canale al gruppo di Telegram perché sul gruppo di Telegram oltre a condividere tutta una serie di news vi condivido tutti i wallpaper che vi piacciono tanto quelli che condivido e vi faccio vedere spesso anche di Telegram e vi condivido anche tutta una serie di offerte che trovo in giro su Amazon o su Ebay quindi mi raccomando vi lascio il link qui sotto iscrivetevi anche a quel gruppo detto questo ragazzi noi ci vediamo alla prossima video recensione da Times Gadget per Giorgio buona giornata a tutti e grazie ancora e grazie a tutti